Esordio con Vittoria, un esordio che forse neanche voi vi aspettavate? Tanto che era la nostra prima uscita sia ufficiale che stagionale del nuovo corso, della nuova stagione, ci tenevamo a far bene perché in ritiro purtroppo non siamo riusciti mai a confrontarci anche con un altro avversario di qualunque categoria, quindi per noi oltre che sì, partito ufficiale però era la prima volta che ci affrontavamo contro un avversario, quindi sapevamo che era un avversario forte perché il Sud Tirol come si sa ogni anno fa sempre squadre competitive, ha giocatori forti come Tulli, Torregrossa, sapevamo che era difficile però per noi era importante trovare condizioni prima di tutto e poi il risultato certo che ti aiuta a cominciare bene la stagione e a poter dare continuità sia a livello fisico che a livello mentale. Non capita spesso di prendere tre gol e comunque alla fine vincere anche la partita? No, è stata una partita bella, divertente dove ci sono stati tanti episodi, rigori, ok, però anche a livello di occasioni è stata molto bella, ecco, giocata a viso aperto da entrambi le squadre, di solito il calcio d'agosto è un po' lento, ma chi non sono io, invece sembra che è stato tutto l'opposto, quindi siamo contenti dopo sui gol fatti e subiti, quello è presto per parlare, ancora siamo in fase di rodaggio, è solo due settimane che lavoriamo, ma non c'è nessun tipo di problema, ecco, dobbiamo cominciare a prendere entusiasmo e lavorare giorno a giorno migliorandoci. Grazie. 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 Grazie.